Brescia che viene sconfitto, Brescia che viene contestato. Curva Nord vuota, Cori contro Cellino all'esterno dello stadio per tutti i 90 minuti e in campo la solita minestra vedrebbe da dire. Brescia che iniziava bene l'approccio alla partita, un pallo di Galazzi, il colpo di testa di Rodriguez schierato insieme a Bjorkengren subito all'inizio insieme ad Adrenacci, grande novità del ritrovato Crote in panchina e il gol che arrivava proprio sul confezionamento di questi due assist di Bjorken, colpo di testa di Rodriguez e il vantaggio. Poi al trentesimo si spegneva la luce, l'errore di posizionamento del Brescia dava via al pareggio di Moro, da lì una serie infinita di errori anche gravi che portavano al 3-1 finale. Quello più grave in assoluto è quello di Adorni che lasciava praticamente l'autostrada del sole per Insigne che si infilava giustamente segnando il gol del 2-1. Un errore incomprensibile come quello di valutazione di Vandeloi che non sentiva il richiamo di Andrenacci, anticipava il portiere e permetteva al Frosinone di segnare il gol del 3-1. Solite distrazioni, un Brescia che adesso è nel profondo rosso della classifica, due suoi punti dalla zona play-out e quella con il Como diventa una delle gare più importanti della stagione.